ok ho staccato il piede buono, è andato a domicilio qua, cameraman potremmo non lo vedo più dobbiamo solo regolare questo leggero pendolio qui c'è una FYQ90 Pro con regolatori da 20A un pacco lipo 3S struttura comprofidata di aluminio da 1x1 alla guida Benny vedi come si fanno male dedicato a Sandro a Maurizio no dedicato a Sandro Cucchiara e allo scettico Maurizio calcolando che la scheda non è stata ancora tarata deve essere ancora tarata domani vieni? se riesco a fare volare il mio si se no no come facciamo? no Samin non puoi volare se il regolatore non va? non mi interessa sfondiamo da qua e mettiamo sul mio telefono grazie a tutti